ciao a tutti questo è un piccolo aggiornamento per quanto riguarda tutte le persone che mi scriveranno delle mail private per un consulto privato ad ogni consulto su richiesta e ripeto su richiesta se voi mi scriverete il vostro giorno di nascita e volete avere delle informazioni in più sul vostro giorno di nascita per quanto riguarda l'assonanza con i tarocchi un consiglio un pensiero del giorno insieme a questo libro io riuscirò vedete qua c'è il giorno e il mese riuscirò a darvi delle informazioni in più sulla vostra persona questo è un qualcosa in più che voglio regalare a tutte le persone che mi chiederanno un consulto privato e come dicevo prima mi diranno specificatamente che vogliono sapere qualcosa in più sul loro giorno di nascita bene questo era un piccolo video di presentazione e adesso vi lascio al video del giorno ciao a tutti vi rubo semplicemente 5 minuti prima di iniziare il nostro consueto video per farvi vedere quello che farò da questo momento in poi alla fine di ogni video sempre se a voi piace perciò fatemelo sapere nei commenti vedete queste carte hanno dei numeri è una città scritta io alla fine di ogni video mescolerò in modo molto approssimativo questo mazzo di carte come sto facendo adesso per farvi semplicemente vedere e poi in modo molto casuale prenderò due carte come in questo caso le girerò e poi in base al numero e alla ruota che uscirà vi darò dei numerini da giocare all'otto e uscirò soltanto due numeri appunto per perché diciamo è semplicemente un un suggerimento se volete fare una giocatina all'otto non più di un euro mi raccomando con semplicemente due numeri per tentare la fortuna non c'è niente di assicurato niente di sicuro è semplicemente per chi ha questa passione e vuole tentare la fortuna avere due numerini per poter giocare questo è tutto per questo piccolo per questa piccola anticipazione e vi lascio il video grazie ciao a tutti e benvenuti nel mio canale io sono morgana oggi siamo di nuovo insieme con un nuovo video interattivo volevo ringraziare tutti i nuovi iscritti grazie a voi il canale sta crescendo e stiamo diventando sempre di più ricordo che i miei video sono degli interattivi ed appunto per questo non possono calzare a tutte le persone a tutte le situazioni per questo chiedo a coloro che volessero approfondire una qualche situazione poco chiara approfondire una variante con domande supplementari di scrivermi un email specificando l'argomento da chiarire oggi andremo a diciamo fare la domanda alle carte su un video che mi era stato richiesto da una di voi nei commenti il karma agirà verso chi ci ha fatto del male una ragazza di voi mi ha chiesto se chi l'ha fatta soffrire pagherà per per quello che ha fatto io giustamente non posso mettere il titolo al video in base proprio a come mi è stato scritto nella richiesta devo elaborare un titolo che vada bene anche per altre persone perciò il titolo che ho scelto è il karma agirà verso chi ci ha fatto del male andremo a suddividere le varianti con i cuoricini e adesso io preparerò le varianti e poi le leggeremo insieme benissimo ecco qua pronte le tre varianti io vi consiglio di se volete un po' di tempo di mettere in pausa il video vi raccomando di scegliere intuitivamente e istintivamente la variante che più sentite vostra che più vi attira e adesso andiamo a leggere la prima variante per chi ha scelto il cuoricino qui le carte ci parlano di una situazione allora innanzitutto vediamo cosa ci dicono le carte le carte ci parlano di un nuovo inizio ci viene offerto un nuovo inizio un viaggio sta iniziando dobbiamo fare i primi passi verso qualcosa di nuovo è tempo di porre fine sulla tua situazione poi abbiamo dipendenza reciproca situazioni di dipendenza stanno condizionando la tua vita sentimentale significa che noi ci sentiamo condizionati dalla persona che abbiamo accanto ci sentiamo come se senza questa persona noi non possiamo fare niente non riusciamo a fare niente qui abbiamo il 10 di denari il 10 di denari ci porta alla tradizione alla prosperità alla eredità diciamo che ricchezza la strada per il successo materiale ci insegna a costruire nel tempo attraverso l'intrecciarsi di strade con persone affini a noi diciamo che questo raggrupparsi di spiriti è la vera famiglia e dà origine a un luogo sicuro e accogliente dove stare una casa dove crescere con l'aiuto diciamo del sostegno degli altri poi abbiamo la rottura allora fondamentalmente questa queste quattro carte ci dicono che noi dobbiamo iniziare un nuovo percorso dobbiamo iniziare fra virgolette una nuova vita alla domanda se il karma girà verso le persone che ci hanno fatto del male siamo noi che possiamo punire le persone che ci hanno fatto del male come completamente staccandoci da loro nel senso che noi abbiamo una dipendenza è come se dentro di noi abbiamo bisogno di farci del male abbiamo bisogno è strana la cosa però è come se noi sentissimo questo bisogno irrefrenabile di stare con questa persona o di avere sempre a che fare con questa persona che ci ha fatto del male e invece no la soluzione per il nostro problema la soluzione affinché il karma faccia il suo lavoro e faccia capire alle persone che ci hanno fatto soffrire che hanno sbagliato è completamente ignorarle ignorarle con la rottura e il nuovo inizio come possiamo fare per rompere questa catena che ci lega fondamentalmente a questa dipendenza che abbiamo da questo personaggio o da questa donna in base a se siete uomo o donna dobbiamo rifugiarci nella famiglia, negli affetti dobbiamo fare un passo indietro tornare alle origini tornare nella nostra famiglia di origine tornare fra le persone che realmente ci vogliono bene ci stimano e sanno quanto valiamo e completamente ignorare la persona che ci ha fatto soffrire andiamo a leggere la seconda variante per chi ha scelto il cuoricino rosso spero si veda magari lo mettiamo qua così si vede di più forse andiamo? ok allora ritirarsi ruota della fortuna allora qui abbiamo una situazione diciamo un po' simile alla prima il nostro oracolo ci parla di un sentiero la strada davanti a noi è aperta il percorso è illuminato dobbiamo iniziare questo viaggio ora dobbiamo rispondere ed agire dobbiamo essere coraggiosi ed andare avanti dobbiamo ritirarci dobbiamo staccarci dal mondo che abbiamo lasciato alle nostre spalle dobbiamo staccarci da questa persona che ci ha fatto soffrire noi fondamentalmente siamo così siamo come il fante di coppe siamo creativi, gentili, fantasiosi, sensibili diciamo che siete delle persone ricche di fantasia creative e sensibili avete la capacità di ascoltare contatto e sensibilità e la vostra energia risiede nel cuore più che nella testa ed è questo diciamo che vi ha fatto soffrire con questa persona dato che si tratta di un fante si tratta di una persona giovane quindi ha ancora molte possibilità di percorso e di crescita però questo percorso di crescita può prendere ancora delle direzioni sbagliate perché il rischio è quello di perdersi nell'immaginazione senza tradurre in concreto le sue intuizioni cioè lasciarsi andare alla fantasia se voi riuscite a sviluppare il vostro potenziale in maniera equilibrata potrà essere un grande aiuto grazie alla dolcezza alla tollerabilità e alla capacità di sentire che cosa significa? significa che la vostra più grande fortuna perché uscite alla ruota della fortuna significa che come nella prima variante voi dovete staccarvi da questa persona dovete cercare di vedere oltre di andare oltre questo sarà la peggior punizione che potete dare alle persone che vi hanno fatto soffrire andare avanti non avere più bisogno non avere più il pensiero a queste persone che vi hanno fatto del male questo è il peggior karma che a loro possa capitare non essere più al centro della vostra attenzione non essere più diciamo i burattinai che tirano i fili della vostra vita dovete cercare di andare oltre di crescere di crescere sia con l'immaginazione ma anche con la concretezza perché il sentiero è aperto davanti ai vostri occhi adesso andiamo a leggere la terza variante per chi ha scelto il cuoricino bianco già le prime due varianti sono state meravigliose meravigliose vediamo questa qui abbiamo altre belle carte allora qui abbiamo l'oracolo l'oracolo ci dice che non dobbiamo arrenderci diciamo che abbiamo pianificato quello che stiamo vivendo non dobbiamo notare quello che gli altri pensano o dicono di noi dobbiamo aprire la porta e andare qualcuno intorno a noi potrebbe essere geloso del nostro successo ma noi dobbiamo segnare le nostre vittorie qui abbiamo una passione dobbiamo permettere al cuore e all'anima di cantare di gioia cosa significa? significa qui insieme alle carte del matto e all'imperatore significa che qui abbiamo noi una grande possibilità perché qua il matto ci parla di una situazione nuova ci parla di un inizio di una libertà di una spontaneità la carta rappresenta un individuo che sta per iniziare qualcosa di nuovo qualcosa che potrebbe portarlo ovunque la freschezza del suo atteggiamento gli permetteranno di avere nuove possibilità e contemporaneamente lo metteranno a riparo dai possibili pericoli questa scelta di buttarsi in qualcosa di nuovo non è dettata dalla ragione essendo il matto ma piuttosto dall'istinto e dallo spirito che lo guida che cosa significa questa? significa che noi dobbiamo cercare di lasciarci alle spalle quello che abbiamo subito perché fondamentalmente c'è molto presto una situazione di passione con un nuovo personaggio perciò lasciamo stare quello che c'è stato il karma della persona con cui abbiamo avuto a che fare che ci ha fatto del male ci penserà a lui a farlo a fargli capire che con noi ha sbagliato però noi dobbiamo pensare in questo momento a noi stessi in questo momento le carte ci dicono che noi abbiamo una nuova fioritura abbiamo una nuova possibilità abbiamo una possibilità di vivere una storia che realmente ci va bene che realmente va bene per noi va bene per la nostra persona incontreremo ben presto una persona che ci darà tutto quello che la persona precedente ci ha fatto odiare in questo momento perché fondamentalmente noi se vogliamo sapere se il karma agirà sulla persona che ci ha fatto del male è perché abbiamo sofferto noi non ci dobbiamo pensare di più a quello che ci ha fatto passare dobbiamo pensare a quello che noi possiamo vivere e dobbiamo pensare a quello che il destino ha in serbo per noi cioè una bella possibilità di riscatto con una persona nuova una persona nuova che sicuramente è una persona importante una persona che riveste un ruolo importante già ben definita stabile e magari un pochettino più grande di noi adesso come ho detto all'inizio del video andiamo a mescolare le carte per sapere quali sono i numeretti di oggi bene magari giustamente se voi vedete questo video e già avete giocato i primi numeretti lasciate stare questi li giocherete la prossima volta benissimo oggi abbiamo il 50 e il 61 sulla ruota di Torino Bari 50 e 61 sulla ruota di Torino Bari bene bene siamo alla fine di questo video se vi è piaciuto lasciatemi un pollice in su così mi fate capire che vi interessa l'argomento se ancora non lo avete fatto iscrivetevi al mio canale per non perdere i prossimi video ricordo a chi volesse approfondire qualche variante o avere qualche domanda da su una questione diciamo più personale mi può scrivere un'email io vi saluto vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti